Il mercato Sanseverino, proprio di fronte all'ospedale amico Gaetano Fuscito, dove da alcuni giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione di un bar Tavola Carda del gruppo Galdieri e Figlio. Galdieri è una delle più importanti società della Valle dell'Irno, noto nel settore dei carburanti, ma anche per la recente apertura sulla superstrada Salerno Avellino dei due autogrill. L'opera è iniziata il 7 gennaio 2014, progettista e architetto della stessa è l'architetto Gerardo Pecoraro, mentre a realizzare materialmente l'attività è l'impresa Sessa Costruzioni. Un'altra importante opera che viene realizzata qui a Mercato Sanseverino, opera che salvo imprevisti dovrebbe essere completata nel giro di 4-5 mesi, dopodiché dare occupazione a una decina di persone. Cosa non secondaria in questo periodo di grave crisi economica. Ovviamente c'è la volontà e l'interesse dell'amministrazione comunale di Mercato Sanseverino, guidata dal sindaco Giovanni Romano, di realizzare la stessa nel più breve tempo possibile, garantire quindi ulteriori posti di lavoro a Mercato Sanseverino.